A vincere Pechino Express questo bellissimo reality show di Casarai sono state ieri sera le collegiali. Queste bravissime ragazze dunque ottengono tra virgolette la medaglia d'oro, metaforicamente parlando, un bellissimo primo posto. Al secondo invece arriva, quindi medaglia di argento, il buon Enzo Miccio con New Ending Planner. È stata una puntata piuttosto piacevole, quella di ieri dove appunto sono state decretate come vincitrici le collegiali a Pechino Express, questo bellissimo reality di Casarai, ripeto nuovamente. È stata una bella puntata, una puntata ricca di piacevoli emozioni, di piacevoli sensazioni che è andata a celebrarsi nella maniera più bella e più corretta che ci sia. Complimenti dunque alle collegiali, il video termina qua, complimenti però anche al buon Enzo Miccio con New Ending Planner. Iscrivetevi, commentate al prossimo video.